Non riesco più nemmeno ad arrabbiarmi quando vedo una scalzonata come quella di un giornale importante, come Die Welt, che dice che la mafia sta aspettando i soldi dell'Europa. Ho la memoria lunga, ricordo ancora come nel 1977, mentre noi stavamo schiattando già con il terrorismo, un altro giornale prestigioso tedesco, Der Spiegel, fece una copertina mettendo una pistola sopra un piatto di spaghetti. È un vecchio sentimento anti-italiano, irrispettoso, cialtrone, del quale i tedeschi chiedono sostanzialmente che noi in fondo sì, siamo geniali e le loro industrie automobilistiche proprio oggi dicono che se non arrivano i pezzi dall'Italia noi siamo fermi, noi siamo utili, ma siamo disestimati perché loro ritengono che viviamo così alla buona, che abbiamo un tenore di vita superiore a quello che ci possiamo permettere e che quindi poi alla fine, mettiamola così, se abbiamo il virus. E' bene che ce lo giustriamo da soli. Ma che Europa è questa? E che Europa è quella in cui un paradiso fiscale come l'Olanda con 17 milioni di abitanti riesce a bloccare a lungo le decisioni dell'Eurozona con 337 milioni di abitanti. Ma che roba è?